Euroformula Open Niente, siamo molto contenti perché alla fine abbiamo ripreso, abbiamo ricominciato il campionato da dove l'abbiamo finito, da come l'abbiamo finito, quindi questo è molto importante, sappiamo che abbiamo un potenziale per fare molto bene, peccato per ieri per la pole position, mancato un decimo ma c'era il potenziale per fare appunto la pole tranquillo Oggi abbiamo dimostrato, penso, con tutti, a parte qualche sfortuna, vedi Simoniano, vedi Saudieri, abbiamo dimostrato che il potenziale è quello, diciamo, nostro standard Sandy Stuvig, primo dopo già questo primo Racing Weekend con un bilancio di una piazza d'onore e di un bel primo posto in gara 2, quindi i risultati per stare sempre lì davanti, come dicevi, ci sono tutti, a questo punto che stagione si aspetta, Niki Rocca? Il lavoro è tanto da parte di tutti, sacrifici e tanto tanto impegno, i piloti che abbiamo siamo contenti nel senso il livello è buono come quello dell'anno scorso, penso ci siano tutte le condizioni per poter fare bene, per potercela giocare fino alla fine, speriamo in bene, è ancora lunga come ti ripeto, scusa, quindi va bene, per adesso va benissimo così Bocca al lupo Crepi il lupo, come dicono Grazie Grazie